Musica Sentire la loro voce hanno ribadito che si rivolgeranno alla Commissione Europea i Rom che stamane hanno manifestato in Campidoglio protestano contro gli sgomberi avvenuti nel Camping River in via della tenuta Piccirilli a Roma dove ieri la Polizia Municipale ha sigillato otto moduli abitativi è stato commesso un grave abuso, denuncia l'Associazione Nazionale Rom intere famiglie sono finite in strada senza che venisse predisposto un progetto di inclusione sociale ma per il Campidoglio l'insediamento è un luogo ad alto rischio di ghettizzazione e di illegalità e per questo va superato gli operatori sociali di Roma Capitale, afferma ancora il Campidoglio hanno lavorato da tempo per proporre misure di supporto alternative alle famiglie che sono state rifiutate